Sì, Ostok, ciao a tutti. Mentre Mattarella parla di tutela della salute come metro di civiltà delle economie avanzate, sulla stessa ANSA, sullo stesso portale, si riporta la notizia del caos di Lampedusa e dell'immigrazione in tutta Italia, l'immigrazione di massa pressoché tutta illegale. Ora, migranti, altri 11 sbarchi a Lampedusa arrivati in 219 dopo i 433 approdati ieri con 15 imbarcazioni, quindi siamo, come da titolo, a 26 sbarchi con 652 migranti, almeno questo ufficialmente. Inoltre, a Bari, due migranti tentano una fuga dalla nave quarantena Rhapsody. Questa è la situazione caotica dopo le ultime decisioni sull'immigrazione del governo Conte. Ora, andiamo a vedere i video che almeno ci permettono di guardare su Twitter, sui vari social, quelli che ci comandano. E parliamo dell'immigrazione, voglio dire la mia delle considerazioni personali. La prima considerazione. Tutti gridano alla sicurezza sanitaria, alla prevenzione, alle mascherine obbligatorie anche all'aperto, alla lotta, alla movida, al distanziamento sociale, all'uso della moneta elettronica e non di quella cartacea, eccetera, eccetera. E nessuno ha la sicurezza dei cittadini, nessuno ha il rispetto della legalità dei confini nazionali. Due, i clandestini tunisini non sembrano proprio pericolosi potenziali veicoli di contagio, così come gli italiani, i cittadini, per questo governo. Tre, i TG, ho visto il TG1, censurano gli sbarchi. Mi ricordo i racconti di mia madre, in Ungheria i comunisti nascosero il disastro nucleare di Cernobil per molti giorni, tv e radio mute, causando molti morti. Però lo avevano detto quelli di sinistra, nel post Salvini con la Morgese, l'immigrazione non sarà più un problema, bisogna toglierle visibilità, è quello che hanno fatto. Numero quattro, ancora pochi italiani si rendono conto, a suoi fatti dalla propaganda in stile Pravda lobotomizzante, delle conseguenze sulla società italiana dell'immigrazione di massa, della rivoluzione demografica già in atto. I figli mai nati in Italia non sono sostituibili dagli immigrati, questa è pura propaganda di sinistra globalista. Il decreto immigrazione sarà sempre più dannoso per l'Italia. E ultimo punto, l'opposizione di destra, questo è un grande punto, la Lega di Salvini, Fratelli d'Italia di Meloni, dovrebbe tutta questa opposizione di destra cominciare a reagire veramente, ad opporsi alla deriva immigrazionista di Conte, del Movimento 5 Stelle e soprattutto del PD. Organizzare qualcosa di serio per il bene degli italiani.